Buone notizie per Carla Benvenuti, pensionata di 64 anni che aveva prenotato una visita specialistica tramite il CUP che l'aveva assegnato come unica possibilità all'ospedale di Fabriano. La donna aveva espresso la sua preoccupazione per l'impossibilità di recarsi in una località così distante a causa appunto della sua disabilità motoria. Con l'aiuto del signor Lucarelli ho avuto la possibilità di riandare a prendere l'appuntamento al CUP e me l'hanno dato più vicino, me l'hanno dato a Pesaro. Il suo appello alle istituzioni affinché si trovasse una soluzione è stato recepito da T. Lucarelli, esponente della lista civica Noi Civiche Fano, il quale ha trovato subito una soluzione. Il servizio messo a sua disposizione anticipa sperimentalmente il progetto più ampio di taxi sanitario. La signora aveva avuto un appuntamento in quel di Fabriano, poi è riaggiornato a Pesaro. Tra l'altro a Pesaro c'è anche un servizio dell'Auser che può essere attivato. Ecco, in questo caso saremo noi ad aver attivato un servizio e a poterla accompagnare, ma ovviamente questo sarà un servizio spot vista la sensibilità e visto il fatto che abbiamo conosciuto in questo caso la signora, ma l'obiettivo vero è riuscire a attivare questo servizio per tutti. Sarà un servizio destinato a coloro i quali sono impossibilitati, come la signora Carla Benvenuti, a spostamenti in località distanti dal luogo di residenza. Abbiamo chiesto ai due esponenti della lista civica Noi Civiche Fano di spiegarci il progetto. Allora, noi, come questo progetto che abbiamo pensato, ideato come taxi sanitario, ci è venuto in mente perché il caso della signora Carla non è un caso isolato. Purtroppo io ho lavorato 5, 6, anche 6 anni in radiologia e vi assicuro che i casi di questo tipo ci sono capitati n volte. Spesso e volentieri il paziente non andava a fare la visita o l'esame diagnostico e chiaramente a quel momento non veniva utilizzato. Abbiamo pensato di creare proprio questo taxi sanitario, quindi un taxi, un pulmino da 9 posti, dove ogni qualvolta che una persona ne ha bisogno, una persona chiaramente di 65, 70 anni, non automunito, può recarsi direttamente con un autista e andare direttamente nell'ospedale dove deve fare quella determinata visita. Quindi questa è l'idea che abbiamo noi. Chiaramente è un prezzo per riuscire a risolvere il problema dei costi di questo taxi sanitario e chiedere un contributo dalla regione, quindi un contributo anche dal comune e allo stesso tempo si riesce a un prezzo calmerato per quelle persone che lo utilizzano. Innanzitutto tengo a sottolineare che noi civiche Fano dà molta importanza a due temi fondamentali, quello della salute per tutti i cittadini e quello della disabilità. Io sono mamma di due ragazzi speciali, quindi diciamo che ho molto cuore questo aspetto. E quindi quando abbiamo sentito giustamente la signora Carla, c'è proprio stretto il cuore ed ecco che siamo intervenuti accompagnandola. Sicuramente questo non potrà risolvere tutto, ma io dico sempre è un piccolo passo e quello del taxi sanitario che vi ha detto Carlo sicuramente è un servizio meraviglioso che può aiutare chi non ha la possibilità di spostarsi o perché non ha un mezzo proprio oppure perché non ci sono magari familiari che possono accompagnare in quel momento. E quindi siamo contenti di dire che noi civiche Fano siamo qui, siamo presenti e attenti ai nostri cittadini, soprattutto in particolar modo ai disabili.